Aveva fatto irruzione nel centro di accoglienza di Sulmona in provincia dell'Aquila minacciando i migranti con una pistola scacciacani e finendo per raccoltellare un ragazzo originario del Gambia. Adesso Nicola Spagnoletti, un 47enne originario di Arezzo, al termine dell'udienza preliminare, è stato condannato a sei anni di reclusione per tentato omicidio. Al 47enne che aveva scelto il rito abbreviato, il giudice ha applicato anche le pene accessorie, ovvero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento nei confronti della parte civile, da calcolarsi in separata sede. È caduta invece l'aggravante dell'odio razziale che rimane in piedi per l'altro imputato, il sulmonese Serafino Di Lorenzo, che ha optato per il rito ordinario. I fatti risalgono alla sera del 12 giugno 2018, quando i due salirono al terzo piano dell'edificio che ospitava il centro, oggi chiuso perché inagibile, minacciando i migranti presenti. I ospiti, sentendosi in pericolo, reagirono e nel corso di un'accesa discussione, un 23enne proveniente dal Gambia venne colpito con un coltello al fianco sinistro, proprio da Nicola Spagnoletti.